Andremo a vedere proprio il cuore pulsante di un teatro, la parte più antica, più ricca di fascino, quindi è un appuntamento da non perdere anche perché poi è completamente gratuito. Alla scoperta del Teatro Petrarca e dei suoi segreti, grazie alla collaborazione del centro guide della provincia di Arezzo. Si tratta di un servizio sperimentale completamente gratuito della durata di un anno e che permetterà in occasione della Fiera Antiquaria di poter ammirare i segreti del teatro. Il palco è la macchina scenica completamente restaurata, un'opera risalente al 1800. È un'apertura un po' particolare perché non riguarda la parte scenica del Petrarca, cioè la platea, i palchi o il palcoscenico, riguarda il dietro, cioè tutta la macchina scenica, quella macchina che è stata restaurata attraverso un certosino lavoro di recupero dei materiali d'epoca e delle strutture sceniche d'epoca e che oggi consente di utilizzare il Petrarca con strutture ancora del 1800, seppur restaurate e rese perfettamente funzionali. Quindi è un'apertura per gli aretini ma è un'apertura anche per i turisti che in concomitanza con la Fiera dell'Antiquariato, infatti le visite saranno concentrate il sabato e quindi il sabato mattina alle 10 alle 11 e mezzo in gruppi appositamente organizzati, anche in lingua se richiesto, potranno visitare con le guide il Teatro Petrarca e tutta la macchina scenica del Teatro Petrarca che, ripeto, è veramente molto bella, molto entusiasmante e quindi credo che sarà una bella avventura.